Sesta parte della settima lezione del corso di analisi 3. Come esercizi, per ripassare un po' le cose che abbiamo fatto, vi propongo di esaminare la densità delle funzioni a scala negli spazi LP su R. Una funzione a scala assomiglia molto a una funzione semplice e invece di usare come blocchi le funzioni caratteristiche di insieme misurabili, usiamo le funzioni caratteristiche di intervalli di R. Ogni funzione a scala è una funzione semplice, però non è vero il viceversa, quindi le funzioni a scala sono un insieme un po' più piccolo. E comunque sono abbastanza per avere densità in LP quando P è finito, però perdiamo la densità in L infinito. Ecco, vi chiedo di mostrarlo un po' sulla falsariga di quello che abbiamo fatto per le funzioni semplici. Poi un altro esercizio interessante è far vedere che i troncamenti, sia in altezza sia nel dominio, ci permettono di costruire approssimazioni in LP. Questo vuol dire, nell'esercizio 3.5 praticamente si fa vedere che l'insieme delle funzioni limitate con supporto compatto è denso in tutti gli LP con P minore di infinito. Per fare questo esercizio basta semplicemente usare il termine di conseguenza dominata, una volta che si è spiegato che gli Fn convergono puntualmente ovunque alla funzione F. Dopodiché per le funzioni continue ci sono alcuni esercizi per comprendere meglio alcuni passi del testo e c'è questo esercizio sulle omotetie che è analogo a quello delle traslazioni che abbiamo visto. Provate a dimostrare per densità che le riscalate di una funzione F convergono in norma LP quando il fattore di riscalamento converge a 1.